E abbiamo fatto un giro vedendo anche le nuove attrezzature, io poi ho approfittato per fare un po' di discussioni sulla legge di stabilità, se funziona o no il superammortamento per comprare nuovi macchinari, abbiamo visto il magazzino, mi ha spiegato che tra 20 giorni e un mese arrivano ulteriori macchinari nuovi, abbiamo preso gli spaghetti al volo mentre passavano e De Vincenti li ha mangiati tutti, una cosa mi ha fatto vergognare, da come si è tuffato sulla pasta, abbiamo assaggiato, abbiamo capito la differenza tra lo spaghetto quadrato e lo spaghetto alla chitarra, quindi discussione, dove è andato Filippo Sensi, dove è? Filippo Sensi è il mio portavoce che come vedete è esperto di pasta, lo si vede dal... abbiamo quindi visto la bellezza e la bontà della vostra azienda, ma e c'è stato detto dai titolari per tutto il tragitto, la grande forza di questa azienda siete voi, con la vostra professionalità, con la vostra qualità, con il vostro attaccamento e se ci pensate è meraviglioso che la scritta La Molisana possa andare non soltanto nei territori di tutto il paese, ma anche all'estero e abbia degli spazi di crescita ulteriori all'estero, abbiamo un po' discusso, voi pensate che noi come Italia i prodotti che hanno il marchio italiano vendono circa 90 miliardi di euro l'anno, ma i prodotti veramente italiani sono solo 37 miliardi, vuol dire che su questa differenza...